Gentili dei spettatori, buongiorno e benvenuti al Canada di Cervinara per la stessa reale incontro. Il tempo dell'attesa è finito, la terra caudina arde già di passione. È la vera sorpresa di questo raggruppamento, sorpresa positiva anche. Un solo risultato possibile per l'esperanza del Cervinara, l'impossibile che diventa realtà alla portata del Paolisi. Domenica ore 15, Bianco Azzurri e Giallorossi vivranno 90 minuti senza precedenti. Non è semplicemente un derby, è la partita dell'anno, è quella che decide la corsa all'eccellenza. 31 gennaio 2016, la vittoria del campionato di promozione passa sotto le forche caudine. 32 gennaio 2016, la vittoria del Cervinara.